Ancora strascichi giudiziari dopo i tafferugli di Acragas, Profavara di domenica scorsa, quando due poliziotti rimasero feriti dopo la sassaiola scatenata dai tifosi agrigentini. Altri due supporters biancazzurri sono stati arrestati dai poliziotti delle volanti e della Digos di Agrigento e un minorenne è stato denunciato a piede libero. Per quanto riguarda i maggiorenni arrestati con applicazione degli arresti domiciliari, si tratta di un 32enne che deve rispondere di violenza, resistenza, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e anche di lesioni aggravate, in quanto è considerato uno dei partecipanti alla sassaiola. Il secondo, un uomo di 39 anni, è stato accusato invece di non aver rispettato un daspo disposto in passato dal questore di Agrigento e quindi non avrebbe dovuto essere presente all'esseneto domenica scorsa. Ma c'è stato, e questa volta si tratta di un ragazzo di 17 anni, anche un altro denunciato. Il giovane, che era a volto coperto, è stato accusato di avere partecipato ai tumulti pur non avendo lanciato oggetti contro le forze dell'ordine.